Ok ragazzi, fate parte dell'IDF e siete talmente fighi o sfigati da ricevere una pacca sulle spalle dai vostri superiori, un pacco formato famiglia di armi e la missione di ripulire il Libano meridionale dalla presenza degli ex bollazzi. Ebbene, quando le basi degli ex bollazzi sono costruite praticamente in adiacenza ai quartier generali dell'Unifil, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo con lo spiegare che cos'è l'Unifil e naturalmente in ossequio a Barbascura X lo spiegheremo mai! Unifil è l'acronimo di Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite. Il suo compito è quello di mantenere la pace ed evitare contatti deleteri e soprattutto violenti fra gli ex bollazzi da una parte e gli israeliani dall'altra. E ragazzi, vi posso dire che è una delle missioni dell'ONU più riuscite di sempre, infatti va avanti da circa 40 anni. Ha infatti esordito nel 1982, durante o quasi al termine, della guerra civile libanese. In questa occasione la Forza di Interposizione garantì all'OLP di mantenere la pace e di permettere ai suoi membri, nonché alla popolazione palestinese che si trovava sul territorio, di defluire e trasferirsi in altre nazioni arabe. Per la felicità di quest'ultime, che notoriamente sono proprio esaltate solo all'idea di ricevere dei profughi o qualcosa che ci assomiglia. Tipo gli immigrati, ecco. Gli ex bollazzi colpirono la seconda forza multinazionale nel 1983, causando il decesso di circa 300 soldati. 53 della legione straniera e 241 Marines a memoria. Gli italiani rimasero sostanzialmente illesi e si ritirarono dal territorio qualche mese dopo. Nel 2000 la forza multinazionale venne ricreata allo scopo, per l'appunto, di aiutare il disarmo sempre dei soliti esbollazzi. La missione ebbe così tanto successo che nel 2006 venne riproposta per la terza volta e da allora viene prorogata più o meno di anno in anno da parte dell'ONU. Per intenderci, qualche giorno, qualche mese fa, la missione è stata prorogata fino all'agosto del 2025. Ora, qualcuno potrebbe giustamente chiedere, ma Avvocato, qual è lo scopo di questa missione? Ebbene, gli scopi sono cambiati nel tempo. La missione, all'inizio della sua nuova giovinezza nel XXI secolo, aveva i seguenti scopi, riassunti brillantemente da una approssimativa pagina del nostro Ministero della Difesa, questa. Con la risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha previsto il potenziamento del contingente militare UNIFIL con lo scopo di monitorare la cessazione delle ostilità permanente. Poi seguono tre spazi e due spazi a Dbipam, perché l'impaginazione è importante, accompagnare e sostenere le forze armate libanesi, altresì note con l'acronimo di LAF, nel loro rischieramento nel sud del paese, comprendendo la Blue Line non appena Israele ritira le sue forze armate dal Libano. Poi coordinare il ritiro della IDF dai territori occupati ed il rispiegamento delle LAF negli stessi territori una volta lasciati dalla squadra bianco-blu. Poi estendere la propria assistenza per aiutare ed assicurare un corridoio umanitario alla popolazione civile, ai volontari e nonché assicurare il rientro in sicurezza degli sfollati. Insomma, agenzia traslochi. Poi assistere la LAF nel progredire verso la stabilizzazione delle aree. Pieno rispetto della Blue Line Prevenire la ripresa delle ostilità Mantenendo fra la Blue Line e il fiume l'Italy un'area a cuscinetto libera da personale armato Assetti ed armamenti che non siano quelli del governo e di Unifil Mettere in atto i rilevanti provvedimenti degli accordi TAIF Fede la risoluzione 1559 del 2004 e 1680 del 2006 Che impongono il disarmo di tutti i gruppi armati Poi, nessuna arma o autorità che non sia dello Stato Nessuna forza straniera deve essere presente in questa nazione senza il consenso del governo Nessun commercio rifornimento di armi e materiali connessi Se non quelli autorizzati dal governo E infine consegna all'ONU di tutte le mappe contenenti lo schieramento delle mine Poi intraprendere tutte le azioni nelle aree di schieramento delle sue forze Per quanto nelle proprie possibilità assicurare la sua area di operazioni Non venga più autorizzata per azioni ostili di ogni tipo Reagire con la forza ai tentativi di impedire l'assolvimento del proprio compito Sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza per proteggere il personale ONU E le infrastrutture, le installazioni, gli equipaggiamenti Per garantire la sicurezza e la libertà di movimento del personale dell'ONU E delle organizzazioni umanitarie Senza pregiudizi verso la responsabilità del governo locale Per proteggere i civili da imminenti minacce di violenza fisica Insomma ci sono delle solide basi Quindi com'è che fra il 2023 e 2024 Si arriva al punto che gli ezbollazzi riescono a lanciare Senza troppe preoccupazioni Oltre 10.000 razzi contro la nazione confinante Com'è che riescono a trasformare del tutto impunemente Abitazioni ed abitazioni in depositi di armi E soprattutto com'è possibile che le roccaforti degli ezbollazzi Si trovino a poche decine di metri dagli avamposti dell'UNIFIL La risposta è semplice Nel corso degli anni i parametri di missione Oppure forse più propriamente le regole di ingaggio Sono mutate Il personale UNIFIL può svolgere osservazione Ma da posti fissi Può condurre pattuglie diurne notturne Ma senza possibilità di perquisire i mezzi che eventualmente osserva Naturalmente può anche preparare dei checkpoint Svolgere attività di collegamento con le forze armate libanesi Ed effettuare pattugliamento marittimo In pratica le truppe UNIFIL possono svolgere le stesse attività Che sono proprie di un turista che va a farsi un giretto in un'altra nazione Come potete ben immaginare I gialloverdi con queste regole di ingaggio Che salvo errore da parte mia Non permettono nemmeno l'arresto di un trafficante d'armi Beccato con il camion strapieno di materiale bellico Ci sono andati più o meno letteralmente a nozze Tant'è che ripeto Nel corso dell'ultimo anno Da quell'area sono stati lanciati circa 10.000 razzi Contro lo stato confinante Portando alla drammatica conseguenza Di dover evacuare qualcosa tipo 60.000 abitanti Nel confine meridionale Naturalmente è vero che ci sono i sistemi di difesa antiaerea È vero che sono relativamente efficienti Ma è altrettanto vero che ogni tanto qualche razzo finisce dove non dovrebbe andare Ricordatevi tutti per esempio quel razzo che ha colpito lo stadio Dove c'erano dei ragazzini che stavano giocandosi una partita Non è quindi poi così strano che una volta messa più o meno sotto controllo La situazione nella striscia un pochino più ad ovest L'IDF venga dispiegato anche in Libano per porre termine a questo tipo di minaccia A proposito, in questi giorni l'IDF ha schierato 15.000 militari Perché infatti pare sia stata richiamata anche una quarta divisione di riservisti I gialloverdi da parte loro, nonostante tutti i problemi organizzativi che stanno affrontando in questo momento Quotidianamente riescono a lanciare almeno un centinaio di razzi E riescono a farlo da al massimo un centinaio di metri rispetto agli avamposti di Unifil Lo sappiamo perché l'ambasciatore presso le Nazioni Unite dell'unica democrazia nel Medio Oriente Ha tenuto una conferenza stampa in cui ha mostrato effettivamente queste immagini Che poi ha provveduto a diffondere ai giornalisti Sventuratamente non le ho ritrovate pubblicate da alcun media Tuttavia l'ambasciatore ha riferito di avere con sé almeno 12 foto di casi simili Quindi possiamo ragionevolmente ritenere che effettivamente i gialloverdi seguano una precisa strategia Che consiste nel piazzare le loro risorse letteralmente vicino a quelle delle Nazioni Unite Quindi sotto il profilo diplomatico la situazione può anche essere delicata Ma sotto il profilo operativo è di una semplicità enorme Come sempre tu devi neutralizzare quelle postazioni E quindi piaccia o non piaccia agli altri Tu vai lì con i mezzi e con gli uomini che sono necessari per raggiungere quel fine Naturalmente come sempre cerchi di minimizzare vittime e danni collaterali Prendendo in mano il telefono e avvisando le tue controparti dell'Unifil Che in un dato giorno si terrà una data operazione militare Poi naturalmente suggerisci anche di evacuare l'area E di spostare i militari dell'Unifil per qualche chilometro più indietro Più a est, più a ovest Insomma basta che ti togli di lì e non fai da bersaglio e va tutto bene A questo punto però Unifil è composto da militari E i militari eseguono solo ed esclusivamente gli ordini che vengono impartiti dal loro comando e dal loro governo Quindi quando qualcuno di un'altra nazione ti dice Guarda sarebbe il caso che tu ti spostassi di 5 chilometri più in là Perché qui devo fare un bippino enorme Normalmente non la prendono proprio benissimo Iniziano a parlare di patria Noi siamo in missione speciale eccetera eccetera Detto fra me e voi Questa reazione può apparire un pochino esagerata Ma è il loro lavoro essere così Una base militare con tutti i suoi mezzi e le sue risorse Non si abbandona perché un collega di un'altra nazione te lo chiede Quella è la tua base, il tuo avamposto E hai il dovere di difenderla Ora gli italiani sono stati più saggi perché quando è arrivata la battaglia Molto banalmente i soldati si sono asserragliati all'interno dell'avamposto Probabilmente in una camera blindata, in un bunker o qualcosa del genere E infatti nessuno dei nostri si è fatto male Viceversa altri soldati sono rimasti alle proprie postazioni Una torretta per esempio è stata colpita qualche giorno fa Credo da un colpo di Merkawa I soldati non sono stati direttamente feriti Anche perché un colpo di carro armato fa davvero male Ma sono caduti dalla scaletta della torretta E si sono fatti qualche livido E questi due soldati dovrebbero essere indonesiani o cingalesi Comunque sia non sono esattamente europei Nella giornata di oggi pare che si siano registrati altri tre feriti Di cui almeno uno non solo è finito in ospedale ma ci dovrà restare anche per qualche tempo Tutto sommato noi italiani ce la siamo cavata con qualche mezzo ammaccato E un paio di telecamere distrutte Nonostante ciò il ministro per la difesa, secondo fonti dell'ANSA Avrebbe dichiarato che Israele ha commesso un crimine di guerra Il famoso telecamiricidio E pare che abbia minacciato ritorsioni Ora, francamente, io la convenzione di Ginevra me la sono letta diverse volte E no, non è un crimine di guerra danneggiare le proprietà altrui Semmai è per l'appunto un danno ingiusto che deve essere risarcito Ma da qui al crimine di guerra ce ne corre Ma soprattutto se avessimo lo stesso entusiasmo Ogni qualvolta un drone russo sorvola il territorio europeo E magari cade anche arrecando qualche danno qui e là A quest'ora la guerra russo-ucraina sarebbe già finita Probabilmente con Mosca trasformata in un parcheggio di vetro A colpi di testate nucleari Perché se no, diversamente, non si mantiene la stessa scala Io sinceramente mi domando Per quale motivo per due telecamere rotte si faccia tanto rumore Chiunque abbia un minimo di esperienza militare Sa che le battaglie sono fra le situazioni più confusionarie che possano esistere Contrariamente a quello che si vede in film, telefilm, cartoni animati e fumetti Nelle battaglie ci sarà sempre qualcosa che non hai previsto E qualcosa che non andrà come hai previsto o come dovrebbe andare Perché le battaglie vengono condotte da tanti esseri umani Che in quanto tali sono soggetti ad errore Possono provare paura Possono reagire impulsivamente a una determinata situazione E provocare anche danni a cose e persone che in teoria andrebbero evitati Ma è una battaglia Hai l'adrenalina mille Hai il nemico che ti bersaglia da chissà dove E hai il timore di mancare tu il bersaglio Che magari il secondo dopo ti ricambia la cortesia con un RPG Oppure con un colpo d'artiglieria O anche con proiettili di armi leggere e via discorrendo Insomma, non sei all'interno di un film dove tu sei il protagonista E sei plotter ed armor Cioè non ti può succedere nulla proprio perché sei il protagonista Nella realtà il nemico può farti un bipulo tanto in ogni secondo E questo qualche volta ti fa reagire distinto E ti fa reagire anche male Puoi tranquillamente piazzare per errore Un colpo di mortaio o di artiglieria Nel parcheggio dell'ONU Perché miravi un pochino più in là Ma essendo edificio bersagli in adiacenza L'errore di calcolo è sempre dietro l'angolo Magari non calcoli bene il vento Magari sbagli a caricare il proiettile di artiglieria Mettendo troppo esplosivo Sono cose che abbiamo visto accadere anche in Ucraina Quindi non è che queste cose devono accadere soltanto in Ucraina E i russi hanno l'esclusiva sugli errori Anche gli ucraini sbagliano qualcosa ogni tanto Anche gli israeliani sbagliano qualcosa ogni tanto Chiunque sbaglia qualcosa ogni tanto Anche gli italiani Per quanto noi perlomeno stiamo lontani dalle risse Quindi gli errori sono decisamente minimi O non ci sono affatto Ma perché noi non andiamo in battaglia ultimamente Questo è il primo concetto Secondo Danneggiare due telecamere Una torretta E ferire incidentalmente Due, tre, cinque persone È un fatto grave Che merita sanzioni O addirittura Come suggeriscono alcuni filo russi Ma più che altro Filo ex bollazzi Guerra totale Ma ovviamente no Ripeto Di incidenti nella guerra russa ucraina Ce ne sono stati un buon numero E non abbiamo reagito in quel caso Figuriamoci se dobbiamo intervenire qua Per cosa poi? Esattamente Unifil era originariamente Una missione di interposizione Che doveva coadiuvare il governo legittimo Per ripulire l'area dei guerriglieri Poi non chiedetemi quando Non chiedetemi come I parametri di missione E le regole di ingaggio Sono cambiate Per cui Abbiamo lì i nostri uomini Che mantengono il controllo Su avamposti e basi Che si trovano in zona di battaglia Ovviamente Noi non abbiamo alcun interesse A farli partecipare in prima persona Soprattutto contro uno stato Che nel bene o nel male è nostro alleato Non abbiamo interesse a partecipare direttamente Perché tanto quello stato A differenza nostra Quando si propone qualcosa È relativamente efficace nell'ottenerlo Non abbiamo regole di ingaggio Per neutralizzare i bipisti I lanciatori di razzi Cosa ci stiamo lì a fare? Il vero errore in questa vicenda È la mancata coordinazione fra governi Prima dell'inizio delle azioni di terra Una coordinazione ideale Sarebbe stata quella Di far prendere dal governo bianco-blu Il telefono in mano E comunicare all'ONU da una parte Naturalmente poi a tutti gli altri governi Che fanno parte di Unifil Comunicare che entro 10, 15, 20 giorni Un mese Presumente entriamo in azione Per ripulire l'aria dai lanciarazzi Che fate con i vostri uomini? Noi vi suggeriamo caldamente di ritirarli Poi arrangiatevi Dai un mese per organizzarsi Che dai primi cerca persone Che sono saltati per aria Più o meno ci siamo E poi reagisci di conseguenza Così invece c'è stato l'errore Della mancata informazione prima O una gravissima sottovalutazione Da parte occidentale Questo lo scopriremo Quando verrà pubblicata la corrispondenza E l'elenco delle telefonate fra i governanti L'ONU come al solito è lì Ma non ha preso nessuna decisione prima Non la prende adesso Però anche qua vorrei capire All'ONU si discute Però ci sono i nostri soldati Potenzialmente fra i due fuochi Quindi non è una situazione simpatica Io sinceramente li avrei ritirati E poi la missione si arrangerà Perché è così che si fa Ripeto Qual è la nostra funzione Lì in quel luogo Un tempo eravamo lì Per fare in modo Che le forze legali autoctone Si sostituissero alla milizia Qualcosa evidentemente Non è andato come previsto Perché alla fine della fiera C'è solo la milizia irregolare Da quelle parti L'esercito irregolare si è ritirato E non sussistono più Nelle condizioni dell'82 Né quelle del 2000 Né tantomeno quelle del 2006 Quando c'è stato l'ultimo accordo Dopo la guerra dei 34 giorni Se non erro Si era stabilito Che quella zona doveva diventare neutrale Per un po' lo è stata Poi sono cambiate le regole di ingaggio E tornate esattamente Quello che era prima Dato che è tornata Quello che era prima E cambiata la situazione L'accordo stipulato a suo tempo Fra le parti E chiaramente carta straccia Questo è il dato di fatto E all'interno di questa situazione Il nostro interesse nazionale Qual è? Lo so È antipatico Per mille mila motivi Ma Non abbiamo necessità Di restare lì O meglio La necessità c'era Ma sventuratamente Non perché manchi Ai nostri uomini Manchino valore e capacità Ma sventuratamente Per motivi politici Sono state delineate Delle regole di ingaggio Che rendono i nostri uomini In quell'area Perfettamente inutili E dato che non c'è Alcuna utilità nel tenerli lì Non c'è neanche Alcun rischio accettabile Nel tenerli lì Li dobbiamo richiamare E finisce così Poi l'ONU si arrangerà Se vuole mandare Un'altra forza di interposizione A fare sostanzialmente Da più o meno bersagli Per le parti in conflitto Ci potrà mandare Qualcun altro Di qualche altra area Sono abbastanza sicuro Che qualche nazione africana Tipo il Burkina Faso Mille uomini Da mandare al massacro Te li procura Ma la cosa più triste Sono letteralmente I patrioti da divano Intendo dire In Ucraina C'è un popolo Che corre il rischio Di essere schiavizzato Dai russi E quindi Tendenzialmente Intervenire lì Un senso L'avrebbe Ma in questo caso Noi dovremmo Iniziare Una guerra fredda Contro una nazione Che fino a oggi È stata nostra alleata Per due telecamere rotte Ma ce le ricomprano Quelle due telecamere Non vi preoccupate E anche se non ce le comprano Facciamo una colletta Su GoFundMe Mettiamo insieme 500 euro 1000 euro E le rimontiamo Ci costa molto meno Rispetto a una guerra E voi Che cosa ne dite? Come sempre Fatemelo sapere Lasciando scritto Qualcosa qui sotto Se poi vi piacciono I miei video Come sempre Ricordatevi di iscrivervi Al canale Attivare la campanellina Condividere il link Con il video Perché così Almeno viene visto Da più persone E naturalmente Lasciare un mi piace Grande e grosso Se poi volete Sostenere il canale Ricordatevi Che potete anche Abbonarvi Oltre che iscrivervi O diventare dei Patreon Ci sarà anche Qualche piccolo Tenuto extra Se non farete Nulla di tutto questo In un futuro Alternativo Eventuale Puramente improbabile Potreste scoprire Che il vostro Nuovo vicino Di casa E Crosetto E ha deciso Di iniziare Un'operazione Militare speciale Perché appendete I panni In malo modo Sul balcone Io vi ho avvisati Poi fate voi Come sempre Grazie di tutto Per tutto E a presto